Buongiorno a tutti e ben trovati con l'appuntamento con il nostro telegiornale in diretta, telegiornale che apriamo come sempre con gli aggiornamenti dedicati alla cronaca con un uomo di circa 30 anni che è stato soccorso questa mattina per un soffocamento da cibo. E' successo in un'abitazione di Trieste a dare l'allarme chiamando il numero unico di emergenza 112 una persona che si trovava con lui in quel momento. Gli infermieri della Sores hanno dato indicazioni al telefono sulle manovre da eseguire per disostruire le vie aeree. Manovre continuate fino all'arrivo dei soccorritori arrivati con un'automedica e un'ambulanza giunte in pochi minuti. Il personale medico infermieristico ha controllato sul posto l'uomo che, salvo, non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale. E quella di oggi è una giornata dedicata alla cultura con la visita, quest'oggi in regione a Nuova Gorizia, del ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Mentre nel pomeriggio il ministro si troverà ad Aquileia, la mattinata è stata dedicata alla visita a Nuova Gorizia e a Gorizia. Ed è proprio lì che andiamo, dove per noi si trova Angela Caino per raccontarci questa prima parte di giornata. Ben trovata Angela. Buongiorno Alice, a te e ai nostri telespettatori. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano in questo momento è in municipio a Nuova Gorizia, dove sta partecipando ad un incontro assieme alla ministra della cultura, Slovena Asta Vreczko, all'assessore regionale alla cultura Tiziana Gibelli e ai sindaci di Gorizia e Nuova Gorizia, Rodolfo Ziberna e Samo Turelle. Poco fa l'incontro ufficiale tra le delegazioni italiana e slovena qui sul confine della Transalpina, un luogo divenuto ormai un simbolo della riunificazione fra Gorizia e Nuova Gorizia, divise da un confine, un muretto con una recinzione, fino al 2004. Un piazzale divenuto anche il simbolo dell'unità europea. Il ministro che è qui per parlare delle iniziative in vista degli eventi che scatteranno l'8 febbraio del 2025 per Nova Gorizia, Gorizia capitale europea della cultura. Ci sono ancora tanti aspetti da mettere a punto, ma il governo italiano, attraverso le parole del ministro San Giuliano, ha assicurato il suo appoggio e il suo sostegno a questa iniziativa. Molto importante per Gorizia e Nuova Gorizia, ma importante per tutta la regione e per tutto il paese Italia, potremmo dire. Allora andiamo a sentire le parole del ministro San Giuliano. L'Italia insieme capitale della cultura assume un significato molto denso, molto particolare, perché significa farne, come dire, il centro, l'epicentro di uno sviluppo socio-economico che punti a guardare a questa parte importante dell'Europa. Il governo italiano non punterà, sta già puntando alla promozione di questo evento, sia in tutte le nostre manifestazioni al Vinitali, oppure quando saremo paese d'onore alla Bookmesse di Francoforte, o in altre occasioni noi lanceremo questo evento perché crediamo, come dire, nel retroterra spirituale e culturale di questo grande evento, nella sottolineatura dell'unità europea. Qui poi si tratta, appunto, c'è questo di più che è dato dalla volontà di unire due popoli, di unire una dimensione mitteleuropea, che è una dimensione anche culturale molto importante. Quest'oggi ho voluto ricordare i grandi scrittori che sono nati in questa terra. L'ho ricordato con un mio post su Twitter. Grandi scrittori che fecero dell'essere persone di confine un valore culturale, un valore culturale molto preciso. Ci sono, come detto, tanti aspetti da mettere a punto ancora in vista degli eventi per la Capitale Europea della Cultura 2025. Di questo abbiamo parlato proprio con il sindaco, Rodolfo Ziberna, il sindaco di Gorizia, che ci ha spiegato appunto di cosa si parlerà negli incontri di oggi. Sentiamo. L'incontro è estremamente importante, innanzitutto perché è il primo incontro tra i due ministri. Lo facciamo proprio sul confine, perciò è un grande simbolismo. Dall'8 di febbraio, quando è stato comunicato che l'8 di febbraio del 2025 sarà la data di inizio formale della Capitale Europea della Cultura e abbiamo pochissimo tempo. Perciò si tratta di mettere non più i feri in acqua, che sono già da tempo, ma dare un'accelerazione alla collaborazione che c'è tra i due città, tra la regione e i due governi per fare un sacco di cose, a cominciare dalla promozione comune in Italia e Slovenia, in tutta Europa, ma anche oltre Europa. Fare in modo perciò che laddove ci siano ancora dei rallentamenti determinati, ovviamente da diversi regolamenti, legislazioni diverse, perché è la prima volta che una Capitale Europea della Cultura viene conferita a due città diverse e peraltro di due nazionalità diverse, ci sono tanti problemi. Ma quello, come dico io sempre, alla fine, mal che vada, sarà un trionfo. Chiederete qualcosa di particolare al Ministro oggi? Assolutamente sì, cosa che abbiamo già chiesto. Innanzitutto risorse, non tanto per gli investimenti che oggettivamente da parte europea e regionale stanno giungendo, ma per la spesa corrente. Perciò dalle risorse del personale alla promozione, al marketing, uffici stampa, soprattutto altri eventi, perché con gli small project possiamo finanziare solamente alcuni eventi andando verso la Capitale Europea, oltre che naturalmente la possibilità di promuovere questo evento laddove il governo italiano, ma anche quello sloveno, promuovono non soltanto la cultura, ma anche altri ambiti vicini. Terminato l'incontro in comune a Nova Gorizia, il Ministro San Giuliano sarà in comune a Gorizia per un altro incontro con il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga. La sua visita in Friuli Venezia Giulia proseguirà a Trieste, al Porto Vecchio, quindi a Gorizia, al sito archeologico. È previsto in chiusura di giornata anche un passaggio al Sacrario di Redi Puglia per la deposizione di una corona ai caduti. Alice, se non hai domande, da Piazza della Transalpina a Gorizia è tutto e la linea può tornare allo studio. Grazie mille allora Angela Caino per questo collegamento e per averci descritto questa mattinata in compagnia con la visita del Ministro San Giuliano in Regione. Passiamo allora dai temi legati alla cultura, ai temi legati all'ambiente, perché in mattinata si è tenuto un incontro in Sala Iace, nel comune di Udine, con Coldiretti insieme al Presidente Fedriga dal titolo L'agricoltura e i cambiamenti climatici. È proprio di questo che abbiamo parlato, ovvero di come i cambiamenti climatici abbiano influito negli ultimi anni sulle coltivazioni e su quali sono le richieste di Coldiretti al Presidente Fedriga. Sentiamo. Presidente Benedetti, la Coldiretti mette a confronto le varie anime del territorio per trovare delle soluzioni al problema della siccità. Oggi in confronto con la Regione che cosa chiederete al Governatore Fedriga? Al Governatore Fedriga crediamo di farsi carico, come in tutte le Regioni, di questo tema che credo sia veramente importante. Noi abbiamo progettato, proposto un piano in vasi da costruire in tutto il Paese perché pensiamo che sia l'unica vera soluzione per far fronte a questa emergenza. trattenere la poca acqua che ci sarà sarà fondamentale per affrontare il futuro. La Regione Friuli ha già fatto tanto perché è una delle poche regioni che ha messo già a disposizione delle risorse e questo credo che gliene dobbiamo dare atto. Nel breve termine si attendono delle ordinanze per limitazioni, già alcune città si sono mosse in tal senso. Per quanto riguarda invece le colture c'è qualche preoccupazione particolare? Ovviamente anche per quanto riguarda le colture c'è molta preoccupazione. Speriamo che piova, è brutto da dire ma è l'unica speranza che possiamo avere e poter cominciare il più tardi possibile a usare l'acqua. Si è partiti con le semine, come sta andando e quali sono le previsioni anche per il raccolto? Adesso stiamo preparando i letti di semina, non c'è una grande richiesta d'acqua, evidentemente però il terreno è asciutto, basterebbe una pioggia anche non fortissima per farle germinare. E dopo, sui mesi di aprile, di maggio, c'è una grossa richiesta d'acqua. I dati che abbiamo in mano sono proprio dei migliori. Prioritario in questo senso il ruolo dei consorsi di Bonifica che stanno monitorando la situazione degli invasi su tutto il territorio regionale. Ne abbiamo parlato insieme alla Presidente Rosanna Clocchiatti. Rosanna Clocchiatti, Presidente dell'Associazione che raggruppa i consorsi di Bonifica del Friuli Venezia Giulia, andando ad analizzare per aree, quali sono le zone che mostrano più difficoltà sotto il profilo della siccità? Possiamo dire che è trasversale il problema. Andiamo dalla zona del Pordenoneso fino al Ghiroziano. In questo momento la pioggia degli altri giorni ha dato un respiro, soprattutto per le orticole e le culture autunnovernine, però sicuramente non è andato a beneficio, ha dato un grande beneficio, tutto il sistema dell'irrigazione del Friuli. In questo momento abbiamo poca acqua sui bacini, sui grandi bacini che servono, soprattutto la pianura del Pordenonese, ma anche poi il sistema Udinese. Abbiamo poca acqua superficiale perché al di là della pioggia poi se non c'è acqua abbiamo ad esempio sull'Edra la presa che sta prendendo meno acqua di quello che sarebbe in questo periodo e poi abbiamo il grosso problema delle falde, che è quello che in questo momento ci preoccupa parecchio, anche perché le falde con il 2022 sono state, dico io, tirate per il collo, nel senso che abbiamo avuto grosse difficoltà a irrigare e sono andate in difficoltà e attualmente le piogge autunnali avevano dato un respiro, ma attualmente purtroppo la siccità di quest'ultimo mese non ha apportato grande beneficio, anzi sappiamo che le falde non si ricaricano in pochi giorni ma hanno bisogno di mesi. Diciamo anche che però se nei prossimi giorni e nella primavera nostra dovesse piovere sicuramente un beneficio lo avremmo, considerando che noi andremo già ai primi di aprile a fare irrigazione di soccorso per gli autunnovernini e soprattutto l'antibrina che è una delle condizioni necessarie per mantenere le culture di pregio. Il rapporto con i gestori e anche delle centrali idroelettriche? Diciamo che c'è un rapporto costante, anche perché purtroppo già l'anno scorso, in quest'anno sicuramente è molto difficile la produzione di energia, non avendo acqua nelle prese poi diventa difficile anche produrla. Noi stessi consorzi abbiamo parecchie centraline idroelettriche che producono energia pulita e di fatto abbiamo poca acqua per produrre, quindi c'è la doppia situazione strana, non c'è acqua per irrigare ma non c'è neanche acqua per produrre energia elettrica. Passiamo ora al tema dei migranti, verranno installate 65 fotocamere acquistate dalla regione alla fine del 2021 nelle zone boschive di confine tra Italia e Slovenia, quelle battute dai migranti irregolari che transitano lungo la rotta balcanica. Saranno consegnate questa settimana le forze dell'ordine di Trieste e Gorizia con l'obiettivo, come annunciato nel 2020, di ottimizzare gli interventi di contrasto al fenomeno e favorire le riammissioni. 50 fotocamere saranno distribuite a Trieste, 20 alla Questura, 10 al Comando Provinciale dei Carabinieri, 10 a quello della Guardia di Finanza, le altre resteranno alla Polizia Locale, le altre 15 fotocamere saranno in parte consegnate alla Questura di Gorizia. Le apparecchiature sono sistemi di rilevazione ottica mobili che possono essere spostate con facilità e dunque possono essere utilizzate in diversi contesti. Diamo ora un rapido sguardo agli esteri con le notizie in primo piano, ovvero con l'incontro di quest'oggi del leader cinese Xi Jinping in visita a Mosca con Vladimir Putin. Il presidente cinese è atterrato in mattinata e i due discuteranno del piano di pace chi è cinese per l'Ucraina nel loro incontro previsto alle 16.30 ora locale. Gli Stati Uniti, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, impediscono anche una diminuzione degli ostilità in Ucraina. il Dipartimento di Stato e il Consiglio per la Sicurezza Nazionale parleranno apertamente e ufficialmente di questo. Intanto per quanto riguarda il tema delle risorse energetiche, è arrivata questa notte nel porto di Piombino la nave rigassificatrice Golar Tundra di Snam che affrancherà l'Italia da una significativa quota di dipendenza di importazione di metano dai gasdotti transnazionali di terra dalla Russia e anche dalla Azerbaijan con l'obiettivo di ovviare alle turbulenze geopolitiche che possono gravare sul trasporto di gas solo via terra. L'installazione al porto di Piombino della nave rigassificatrice Golar Tundra comprata da Snam per 350 milioni di dollari prende forma la domenica con i primi avvistamenti della sagoma di quasi 300 metri che avanza a largo e poi diventa cosa fatta nella notte con le operazioni di attracco completate quando tutto il traffico commerciale è fermo. Operativa nelle sue funzioni, può rigassificare 5 miliardi di metri cubi di gas liquefatto l'anno, lo sarà però non subito ma da maggio quando saranno completati gli allacciamenti con lo snodo di metanodotti della rete nazionale nell'entroterra. L'arrivo della nave speciale dopo 26 giorni di navigazione da Singapore sembra spegnere anche l'ultima protesta di una cinquantina di cittadini contrari. Se il TAR all'udienza del 5 luglio non cambierà le carte in tavola Golar Tundra resterà nel porto di Piombino tre anni insieme all'altra nave rigassificatrice BV Singapore che sarà collocata a Ravenna, la Golar Tundra contribuirà al 13% del fabbisogno energetico nazionale. Sul piano delle polemiche l'arrivo della nave a Piombino resta controverso nessuno sembra aver cambiato posizione tantomeno il sindaco Francesco Ferrari rimasto contrario fin dall'inizio ad ospitare un'opera che coi suoi concittadini giudica calata dall'alto e un indisponente rispetto alle attese della città acciaierie e relative bonifiche delle aree in primis. Con entusiasmo invece il presidente della regione nonché commissario di governo per l'opera Eugenio Gianni arrivato al porto di Piombino già nelle scorse ore. Ed ora torniamo in regione con il teatro Gegé Telesforo protagonista venerdì sera all'auditorium Zanon del primo appuntamento di Note Nuove la rassegna di Euritmica dedicata alle variegate declinazioni della musica moderna aggiunta alla sua sedicesima edizione e che quest'anno propone un progetto sperimentale che coinvolge anche le scuole superiori. Vediamo di cosa si tratta allora nel servizio. Imparare ad ascoltare la musica dal vivo per incentivare la creatività favorendo l'acquisizione di Life Soft Skills è l'obiettivo di Jazz Sessions il progetto sperimentale avviato da Euritmica con le scuole superiori della provincia di Udine che venerdì scorso all'auditorium Zanon ha visto un centinaio di studenti assistere al concerto di Gegé Telesforo e della sua band primo appuntamento della sedicesima edizione di Note Nuove nel pomeriggio durante il soundcheck i ragazzi hanno incontrato il musicista che ha raccontato loro la sua esperienza con la musica e un po' di storia del jazz la referente del progetto Silvia Colle Il tema è andare a parlare con loro a scuola parlare di musica, di talenti, di creatività, di aspettative intorno alla partecipazione culturale quindi non è un progetto che si concentra sulla musica in quanto contenuto tecnico, storiografico, musicologico ma si concentra sulla musica come contenuto umano e sociale quindi la musica presentata nell'essenza che entra nelle persone che ascoltano quindi non tanto per fare musica ma per essere degli ascoltatori per sentire la musica con tutto il corpo andiamo nelle classi in un incontro di circa due rette prima dei concerti facciamo ascoltare della musica che secondo noi per suggestioni ci permette di parlare dell'artista che poi si va a vedere dal vivo insieme si va al concerto la sera e poi io torno in classe a fare un feedback uso la parola feedback perché è nutrire indietro come si nutre indietro dopo un'esperienza la musica quindi è un percorso che parla di musica attraverso le emozioni e lo stare bene insieme alla musica prossimi appuntamenti con note nuove giovedì 23 marzo al Teatro San Giorgio di Udine ci sarà il concerto di Cecile McLaurin Salvante e poi è sabato primo aprile sempre al Teatro San Giorgio il duo Bavo Taktà Ed ora avviamoci ad aprire la pagina sportiva all'indomani di un weekend ricco di sport dopo la vittoria entusiasmante la Dacia Arena contro il Milan da parte della squadra di Andrea Sottil la sconfitta per il Pordenone contro il Novara e poi le gare disputate sul parquet della Pallaspicchi dalle friulane del basket andiamo alla Dacia Arena per parlare di Udinese ma per fare il punto più in generale del weekend appena trascorso ben trovato buongiorno a Stefano Giovampietro buongiorno Alice buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo abbiamo deciso assolutamente di collegarci in questa parentesi del lunedì dalla Dacia Arena dal campo verde dove ancora si respira l'atmosfera magica della serata di sabato sera che ha chiuso il famigerato cerchio iniziato il 18 settembre 181 giorni dopo l'Udinese è tornata a vincere certo di mezzo c'è stata la lunga sosta per i mondiali comunque l'attesa è stata piuttosto lunga un'attesa ripagata però da una partita incredibile giocata dai ragazzi di Andrea Sottile che sono tornati decisamente sui livelli della striscia di sei vittorie consecutive per adesso si è soltanto a due se si aggiunge però il pareggio di Bergamo sono tre partite nel mese di marzo sette punti una classifica assolutamente migliorata una possibilità di arrivare al settimo posto ancora intatta o comunque nelle posizioni che possono contare anche per un obiettivo più grande però non bisogna nemmeno adesso troppo guardare avanti continuare a ragionare step by step partita dopo partita avete visto anche passare il Giardiniera alle mie spalle perché c'è sempre una cura maniacale del campo anche se si giocherà alla Dacia Arena praticamente fra tre settimane perché ora c'è la sosta e poi la trasferta di Bologna una trasferta che ne parleremo nasce sotto presaggi non felicissimi perché mancheranno giocatori molto importanti come Becao Perez e Wallace che sconteranno un turno di squalifica facciamolo però il punto tramite il nostro servizio realizzato per l'occasione in cui andiamo a rivivere e commentare quanto successo nella partita tra Udinese e Milan dal 18 settembre al 18 marzo sembra passata una vita e anche al netto della lunga sosta per i mondiali la sensazione resta proprio quella si dice però che l'attesa aumenta il piacere vero a metà perché di certo il popolo bianconero avrebbe preferito vincere prima di sabato sera ma la bellezza del successo è stata inestimabile dal 3 a 1 contro l'Inter a quello contro il Milan la squadra di Sottilla ha ruggito strapazzando i campioni in carica in questo 2023 lontani parenti della squadra dello scorso anno ma l'Udinese l'ha fatto con una prestazione grintosa solida da grandissima squadra una formazione tornata sbarazzina già dalle scelte iniziali di Sottilla con la doppia mezzala di qualità senza rinunciare alla coppia success Beto e i ragazzi hanno risposto in campo con delle prove individuali tanto belle da essere difficili da descrivere sembra di fare un torto scegliendone solo alcuni ma va applaudito Beto per la prontezza di aver rimediato al suo errore sul rigore ripetuto per Eira per essere un condottiero unico Wallace per essere una diga insuperabile Udoge treno senza freni senza dimenticare un becao extra lusso anche senza gol al Milan che ormai era diventato un'abitudine un easy bue ormai padrone della fascia della squadra del campionato un Samarzic consapevole della sua forza o un success che ha semplicemente dipinto calcio citiamo anche Silvestri ancora una volta beffato in una vittoria nel segno del tre come il mese in cui è avvenuta i punti fatti i gol segnati e non solo perché la maledizione di Marco Silvestri ha colpito ancora per la terza volta sembra un brutto sogno per lui che statisticamente ancora non ha ufficialmente parato un rigore in Serie A strano anche se in sequenza ipnotizzata dal dischetto Pinamonti Lukaku e Ibrahimovic tre attaccanti niente male sarebbe un bottino eccellente se però tutti gli arbitri non avessero fatto ripetere applicando perfettamente il regolamento anche se nell'ultima occasione Doveri e Nasca con un pizzico di buonsenso avrebbero potuto sorvolare sulla palla ripresa da Beto quasi sulla bandirina del calcio d'angolo anche le scelte controverse del direttore di gara però sono svanite nel pieno di una prestazione fantastica dell'Udinese che consolida la parte sinistra della classifica si rilancia verso il settimo posto ritrovando se stessa a qualche mese di distanza pronti a ripartire alla grande dopo la sosta che ricomincerà sempre nel segno del tre come gli squalificati a Bologna oltre a mister Sottil mancheranno Wallace Becao e Perez e saranno due settimane volte a recuperare Masina e a studiare il migliore assetto per fronteggiare l'emergenza difensiva Allora è importante quindi recuperare Adam Masina forse fondamentale perché al momento l'unico difensore di ruolo utilizzabile diciamo così è Biol ovviamente consideriamo anche i giovanissimi 2004 Banqua e Gessand ma comunque un recupero di Masina sarebbe importantissimo c'è poi possibilità di adattare un giocatore esterno anche se l'ultimo arrivato Zeghel chissà se ha possibilità fisiche di giocare dal primo minuto c'è poi Easy Bue che lo ha fatto in un amichevole potrebbe essere adattato e Bosele o anche all'ultima analisi anche cambiare modulo passare nella difesa a quattro sono tante le opzioni sul tavolo che Sottil vaglierà in queste due settimane di lavoro poi invece è chiaro che farà sentire il suo peso anche la mancanza di Wallace perché l'Udinese non riesce a rinunciare al suo centrocampista brasiliano e il numero 11 è praticamente un inamovibile verrà sostituito da Lovric o da Arslan questo vedremo però sicuramente sono assenze pesanti ma è un Udinese che vuole fronteggiarle al meglio non c'erano assenze a giustificare invece la rovinosa caduta del Pordenone che dopo il primo successo della gestione Mirko Stefani si è reso in casa del Novara risultato molto pesante 4 a 1 già indirizzato nel primo tempo finito 3 a 0 per i piemontesi una brutta battuta d'arresto che diciamo rende praticamente quasi impossibile la promozione in maniera diretta bisognerà passarci per i playoff e quindi sotto questo punto di vista diventa importante anche mantenere almeno il terzo posto o migliorarlo e arrivare secondi salvo crolli della Feral Pisa Lò rivediamo però quanto è successo allo stadio di Novara ieri nel servizio della partita Novara-Pordenone è finita 4 a 1 crolla il Pordenone e crolla per la prima volta anche con il nuovo mister Stefani che perde la sua prima partita da allenatore dei Ramarri sprofondando 4 a 1 sul sintetico di Novara e la partita nasce subito sotto una cattiva luce perché al quinto minuto un corner corto battuto dagli uomini in blu con Rocca che serve Ranieri che appoggia per Galupini che da casa sua a calcia col sinistro il pallone che passa in mezzo a mille maglie festa non lo vede e quindi 1 a 0 per il Novara dopo 4 minuti e 10 secondi poi il Pordenone però si complica la vita da solo sbagliando l'impostazione e allora c'è il lancio lungo dalle retrovie di Ranieri che serve in profondità a Mutai che sguscia in mezzo a negro a Yeti e in grosso non si sa bene come e mette dentro col mancino il gol del 2 a 0 e festeggia il numero 9 insieme al suo compagno Calcagni poi il Pordenone ci prova ma in contropiede viene ancora beffato parte da solo Galupini che si fa tutto il campo arriva al limite dalla lunetta col sinistro incrocia un tiro imparabile per festa ed è Tris per il Novara prima del 40esimo minuto davvero un incubo per il Pordenone che anche nel secondo tempo non riesce a reagire lancio ancora dalle retrovie per il numero 9 Vutai che viene steso in maniera abbastanza evidente per usare un eufemismo da Bruce Cagin fallonetto e penalty sul quale però festa si distende benissimo e respinge negando a Galupini l'opportunità di realizzare la tripletta personale questo episodio dà un po' di carica agli uomini di Mirko Stefani che trovano il gol della bandiera con ingrosso che va alla traversone da destra la difesa del Novara respinge male altro tiro cross e poi la mette dentro negro in qualche modo facendo 3 a 1 il Pordenone prova a rianimarsi prova a trovare la forza per andare a siglare anche il gol del 3 a 2 e alla fine invece a segnare ancora il Novara che manovra bene Pablo González allarga sulla destra pallone a rimorchio per Marcinean che fa il gol della domenica 4 a 1 per il Novara è davvero giornata da dimenticare per i Ramarri che sprofondano e perdono un'altra partita e restano tutto sommato ancora in corsa per il primo posto anche se davvero così non può andare chi la Serie B l'ha già trovata e gli facciamo i complimenti è nel girone C è il Catanzaro con 5 giornate d'anticipo stagione record un attacco folle ha perso una sola partita perché vi parliamo di Catanzaro e lo approfondiremo anche nel corso del TG Sport perché una delle colonne di questa squadra ci fa piacere sottolinearlo è il friulano ex-udinese Simone Pontisso classe 1997 che oggi tra l'altro compie gli anni quindi una giornata da incorniciare un'annata da incorniciare anche perché la sua compagna è in dolce attesa quindi davvero fenomenale il suo momento un Catanzaro pazzesco che sale al piano superiore dopo 17 anni anche grazie all'ausilio di Simone a cui mandiamo ancora una volta i migliori auguri è un caloroso abbraccio per questa conquista sportiva davvero molto importante ci proiettiamo però Alice in chiusura di collegamento anche sul basket perché argomento sempre caldo dei nostri lunedì ieri sono scese in campo le abbiamo seguite durante Studio Sport tutte e due le friulane due sconfitte in dolore dal punto di vista della classifica ma questo lo sapevamo sono partite che erano quasi delle amichevoli mettiamo tra virgolette perché non avrebbe cambiato nulla dal punto di vista della classifica con Cividale che in casa ha perso però contro l'ultima in classifica Sansevero dopo una rimonta clamorosa nel quarto quarto sfumata la vittoria all'ultimo possesso e invece Udine che ha tenuto testa molto bene alla capolista Forlì per tre quarti poi si è sciolta un po' nell'ultima frazione dove soprattutto ha pesato il problema di crampi di Ethan Esposito abbiamo raccolto da Forlì e da Cividale un po' di voci dei protagonisti in questo frangente vi proponiamo quelle dei giocatori ha parlato Monaldi per la PU Furin e Battistini per la web Gesteco Cividale ce li andiamo a sentire io vi rinnovo l'invito a seguirci oggi pomeriggio durante pomeriggio calcio del TG Sport per approfondire tutte le tematiche e vi lascio adesso alle parole dei protagonisti sul parquet del campo delle Friulane abbiamo fatto un'ottima prova peccato che non siamo riusciti a farla per 40 minuti ovviamente con tante difficoltà però merito sicuramente a loro che sono stati soliti fino alla fine comunque per noi è stata un'ottima prova ci è mancato veramente poco ma è l'ultima partita appunto della season poi entriamo nella fase più calda quindi per noi avere il supporto che appunto c'è sempre stato e a maggior ragione per il prossimo periodo per noi è fondamentale nella ripresa abbiamo avuto una reazione comunque di squadra la marea gialla ci ha dato una mano però alla fine ci è mancato quell'attimo di freddezza in più che poteva farci festeggiare al meglio questa domenica comunque noi vogliamo andare a chiusi con l'intenzione di vincere perché vogliamo dimostrare che anche se con una matematica qualificazione ai playoff non vogliamo mollare la corda assolutamente sì diciamo che volevamo provare a vincerlo ovviamente perché davanti al nostro pubblico vogliamo fare una bella prestazione abbiamo preso delle misure l'ultimo quarto peccato per l'ultimo possesso ma insomma ripartiamo dalle cose di mondo che abbiamo fatto per provare a fare meglio e correggere gli errori che abbiamo commesso insomma questa partita sono venuti da partita l'ultima di questa stagione poi a fase orologi insomma cerchiamo di arrivare per i playoff al meglio possibile e ovviamente cerchiamo di fare sempre più esperienza possibile cercare di correggere e fare cose sempre migliori e dunque dopo questa ampia parentesi di sport ci avviamo in chiusura del nostro telegiornale non prima però di dare un'occhiata alla programmazione odierna in nostra compagnia programmazione che continuerà alle ore 15 con pomeriggio calcio per approfondire tutti i temi legati al mondo bianco nero e non solo l'informazione tornerà alle ore 16 per poi ritornare con l'informazione sportiva alle ore 19 in attesa del TG News 24 delle 19 e 15 alle ore 20 l'agendina speciale elezioni di Alberto Terasso mentre alle 21 la prima serata del lunedì condotta da Giorgia Bortolossi Udinese Tonight e allora è tutto per quest'oggi io come sempre vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona continuazione di giornata e vi lascio al meteo ben ritrovati agli amici di TV 12 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo ci attene un avvio della nuova settimana caratterizzato da un miglioramento del tempo non mancheranno spazi soleggiati soprattutto nelle ore centrali della giornata ma diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulle province di Udine e Pordenone giornata stabile assolata con solo qualche nuve innocua di passaggio una maggiore nuvolosità da segnalare in serata sui monti con qualche debole piovigine non esclusa temperature minime non oltre gli 8-9 gradi valori quindi contenuti clima piacevole invece nelle ore pomeridiane con punte di 17-18 gradi in dettaglio diamo uno sguardo anche alla situazione attesa sulle province di Gorizia e Trieste qui sarà nuvoloso in mattinata ma in un contesto in prevalenza asciutto maggiori schiarite poi dalle ore pomeridiane temperature minime intorno agli 8 gradi su Gorizia 10 gradi su Trieste temperature massime anche qui comprese tra i 14 e i 17 gradi tutti i dettagli in merito alla vostra località scaricando l'app di Trevi Meteo di Trevi Meteo di Trevi Whatsdi Grazie a tutti.